La pace comincia dalle nostre città. Da Forlì, Lodi e da questa piazza stanno partendo dei flussi di persone contro l'Italia della corruzione, degli scandali e dell'egoismo. Crema ha scelto di ricordare attraverso una strada da percorrere insieme che la pace inizia dal locale, dalla convivenza tra culture diverse che si trovano a condividere un unico territorio. La pace dunque non è da concepirsi come quello di continuare a pensare la pace. Pace che non è un concetto astratto, ma è una gestione non violente creativa del conflitto, una forma di giustizia e una concessione di diritti. Grazie anche all'Odi solidale, realtà fatta di persone determinate e convinte del valore di queste iniziative come Luigi. Grazie anche ai ragazzi splendidi come Laura e Giorgio, con i quali si è andati ben oltre uno scambio di informazioni tecniche e si è provato anche il piacere di discussioni stimolante, ricche di spunti per future collaborazioni. Mi piace pensare che Crema sia già pronta ad attivare una serie di iniziative, finalizzate ad arrivare alla seconda marcia ancora più pronti ed ancora più numerosi, oltre che più convinti della necessità di un lavoro locale... Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!